Parere favorevole di Relatore e Governo, dichiaro aperta la votazione e la votazione è aperta. Ci siamo? Fiano. Ci siamo? Sì. Dichiaro chiusa la votazione. 317 favorevoli o non contrario della Camera approva. Avverto che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Vazio 3.10, integralmente soppressivo del comma 2 dell'articolo 3, risulta precluso l'emendamento Agostinelli 3.1 modificativo del medesimo comma 2. Passiamo all'articolo 3. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 3. Dichiaro aperta la votazione. Malesani. Scuvera. Scuvera. Ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 302 favorevoli e 15 contrari della Camera approva. Passiamo all'esame dell'articolo 4. Non sono riferiti ai vendamenti. Dichiaro aperta la votazione. Scuvera. 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 Carloni. Ravetto. Ravetto. Turco. Qualcun altro non riesce a votare? Piccolo. Piccolo. Turco. Pastorino. Qualcun altro? Di Lello. Ci siamo? Sembra di sì. No? Bene. Agostini. Ci siamo? Sì? Dichiaro chiusa la votazione. Ah, chiedo scusa.